L'aeronauta di dicembre vi racconta di quella che è l'ultima sessione del 2013, una sessione come dire natalizia, in genere sono sempre le più in garde le ultime sessioni dell'anno perché magari c'è più fatica, più distrazione e nel frattempo magari c'è qualche trappola a cui non si fa attenzione. Una trappola per certi aspetti ce l'ha un po' lasciata intravedere Van Rompuy che in plenaria ha raccontato di quello che si sta cucinando per il vertice di fine anno tra i capi di governo dell'Unione Europea in cui verrà proposto probabilmente questa formula dei contract arrangements, forme di convenzioni tra la Commissione Europea da una parte e i singoli governi dell'Unione Europea per imporre a ciascun paese una serie di riforme economiche in cambio di eventuali aiuti sotto forma di trasferimenti di solidarietà. Un sistema voluto, attenzione, dalla coalizione democristiana e socialista di Berlino che ha tutto del vecchio sistema nazionalista intergovernativo e niente invece di quell'approccio pro-europeista e federale che io ho sempre cercato insieme un po' a tutto il gruppo dell'Alde di portare avanti al Parlamento Europeo. Perché non abbiamo bisogno di singole politiche per specifici paesi che di fatto rafforzano i paesi con i governi più forti e rendono magari più deboli gli altri, imposte dalla Commissione che sarebbero percepiti tanto dai governi quanto dall'opinione pubblica come delle vere e proprie ingerenze. Abbiamo bisogno di regole che siano comuni per tutti e che possano creare anche quegli strumenti con un governo europeo dell'economia almeno tra i 17 paesi della zona Euro che permettano un po' di crescita e ritorniamo sulle vecchie proposte, gli Eurobond che potrebbero permettere un finanziamento del debito quattro volte meno caro rispetto agli interessi che un paese come l'Italia paga, il fondo di redenzione per il debito eccessivo eccedente, il 60%, la creazione di un bilancio della zona Euro magari che potrebbe finanziare una assicurazione sulla disoccupazione universale per i paesi della zona Euro come è stato proposto anche da un gruppo di esperti tedeschi transpartitici, una proposta che è stata anche rilanciata poi in Francia e in Gran Bretagna, in Italia mi sembra che invece al solito non ne ha parlato nessuno. Altro tema è la questione del commercio internazionale, dopo il successo dell'accordo di Bale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, io sono intervenuto in plenaria sul questione del cosiddetto GSP+, vale a dire agevolazioni doganali per i paesi più poveri, c'è un problema che riguarda il Pakistan, un produttore tessile che fa concorrenza diretta anche ai nostri produttori, ma che in effetti si qualifica per queste misure di agevolazione doganale. Bisogna però stare attenti, è quello che ho detto in plenaria, ai criteri di democrazia, diritti dell'uomo, rispetti ai diritti sindacali, della protezione ambientale che sono dei criteri che devono essere sempre tenuti in considerazione per concedere su una base meritocratica a queste agevolazioni. E di commercio ho parlato anche in una delle due trasmissioni RAI registrate in questi giorni a Strasburgo durante la sessione, uno riguarda l'annoso tema della reintroduzione dei dazi, dell'uscita dell'Italia dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, di un nuovo protezionismo che sono le bandiere che Grillo, Lega ogni tanto sbandierano, proposte abbastanza demagogiche perché in realtà la nostra è un'economia che ha un grande bisogno di esportazione, abbiamo un mercato interno che assorbe poco, abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese che hanno bisogno invece di andare in giro per il mondo e quindi anche proprio di avere degli accessi facili nei mercati di altri paesi. Quindi quando sentite queste cose, sono temi che possono anche avere un certo interesse, ma francamente pensare di ritornare a un protezionismo ci porta veramente a perdere tempo e basta. E poi abbiamo registrato un'altra trasmissione sul nuovo codice di protezione civile, non si arriva a quello che io vorrei, cioè una protezione civile unitaria per tutta l'Europa, ma quantomeno a un coordinamento molto serrato anche per quanto riguarda la mappatura e la prevenzione tra i 28 paesi dell'Unione Europea. Sono stato ad Haiti subito dopo il terremoto del 2010, 250 mila morti, poche settimane fa ero nelle Filippine durante il tifone, ho visto tutti questi aiuti europei che arrivano un po' disorganizzati anche se abbiamo un'eccellenza in Italia in particolare sulla protezione civile, ma insomma una maggiore unità vuol dire più efficacia e anche risparmio. Infine Valeria Golino con il film Miele ha avuto il secondo premio del Lux Prize che ogni anno il Parlamento europeo concede alla cinematografia impegnata sui temi sociali. Miele è un bellissimo film, ve lo consiglio, un film molto duro che riguarda un tema difficile come l'eutanasia, è un tabù nella politica in gran parte in molti paesi d'Europa, mi posso vantare di aver organizzato con Luca Coscioni e Mina Welby l'unico evento di questi anni al Parlamento europeo sull'eutanasia, tema doloroso, però è un tema vero. A Bruxelles tanti italiani arrivano ogni tanto per cercare la dolce morte assistita e io credo che anche in questo periodo che appunto si avvicina al Natale su certe questioni non dobbiamo chiudere gli occhi. Buon Natale e auguri.